ciao ragazzi oggi parliamo di stucco giusto stuccatura le mattonelle allora parliamo per bene volevo parlare una cosa che tante volte capita di voi contrattare l'impresa sbagliata perché adesso vi faccio vedere perché perché tante volte quando andate a stuccare il vostro pavimento in vostra mattonella perché lasciano sempre le fissure in giro adesso vi faccio vedere che sono queste qua ragazzi tutti questi bucchi qua uno dice oh no ma poi ma poi metto i battiscopi ragazzi allora prima di tutto è un lavoro fatto malissimo se tu non metti il stucco adesso vi faccio vedere in questo bucchi qua ragazzi sotto il tuo battiscopa come voi potete vedere qua ho chiuso tutto vedi tutto chiuso ci vengono le formiche a voi non piacete abitare con le formiche vero ci fanno la casetta qua con questi buchini e quando tu vai a parlare con il moratore lui dice no ma poi ma poi sai ma poi si copre no ragazzi non si copre niente prima di fate mettere esocolino nella vostra casa ragazzi quando c'è un'impresa che sta facendo ristrutturare la casa controllate se sta tutto così chiuso ma anche se copre hai capito perché se no poi ci viene la formica ci viene scarafaggio ci viene tutto ci viene il ragno avete capito ragazzi condividete questi video per quelli che stanno ristrutturando la casa magari tua sorella fate fare il lavoro fatto bene ragazzi tutto così tutte così tutto così tutto così tutto così bucchi ragazzi non può e averne bucchi ragazzi non puoi averne bucchi ragazzi non puoi averne bucchi deve essere tutto che uso avete capito bene non fate fregare nessuno è giusto che voi pagate però lavoro deve essere fatto a modo del mio co주세요 se no non va bene avete capito bene tutto così bello avete capito non fate mai fregare ragazzi state attenti se tua sorella tua mamma tuo nipote quello che è che stai sulla casa dai questi consigli che è ottimo perché lì si va a cadere dei residui di cibo di polvere vai a tirare tutto risolto e tu non sai dove vieni da quel buco va bene ragazzi quando vedete questo video aiuta a crescere il mio canale vi dirò sempre una bella informazione vi saluto un abbraccio